Le parrucchie, è vero? Sì, sì, sì. Ma le parrucchie mi scappate? Le parrucchie per non farsi riconoscere. Veramente? Dai paparazzi? Sì, sì. Ma perché? Che problema c'è? Fanno questo mese? Quando erano in te inseguita e magari non vogliono far sapere... Il parrucchiere delle vive internazionali. Il parrucchiere da Maria Venier. In Parlamento c'è anche delle donne politiche che vengono da te. Come sono? Tengono... Ci tengono. Ultimamente ci tengono di più rispetto a... Il parrucchiere di Lady Gaga. Seguono di più la moda, vogliono essere sempre curate. Non sono più una cosa scappa e via. No, ci tengono. Ma è una cosa incredibile. Sembra che veramente le vive siano irraggiungibili allora. Senti, però con un minuto, due volte. La crisi ha cambiato... Sì, ha cambiato molto la situazione della parrucchiere. Adesso si fanno dei look in modo tale che possono seguire nel tempo. Possono durare di più? Sì, assolutamente. Per esempio? Per esempio adesso non va più di moda il colore uniforme. Danno già più sfumati in modo tale che non c'è la ricrescita. E vedere una donna in disordine non è donna. E per Capodanno... Grazie, grazie, grazie. Veramente simpaticissimo questo parrucchiere internazionale, questo fashion model delle dive. E arrivederci sempre per le interviste di Parovista.